Claudia Scampoli, Margherita Bianchina al termine di un match combattuto contro le forze italiane. Ma diciamo che quando giochi con queste squadre forti è questione di episodi. Loro hanno una macchina proprio perché nei momenti cruciali sembra che abbiano un po' ma in realtà non è così. Riescono sempre a trovare il punto in un modo o nell'altro. Però stiamo facendo passi avanti. Di sicuro ci stiamo avvicinando. Era proprio questo l'obiettivo, insomma, confrontarsi con le più forti e continuare a crescere. Beh sì, sicuramente loro hanno un vissuto e si vede, hanno molta esperienza. C'è solo da imparare, però siamo molto vicine e questo ci dà conforto per continuare questo mondiale. e speriamo. È anche ora per rifiatare. Domani si riparte con la fase di eliminazione diretta, quindi inizia un'altra fase del mondiale. In realtà non è detto, perché se siamo fra le migliori terze può darsi che andiamo direttamente alla fase successiva. Ma non lo siamo, no? Ok, non importa. Probabilmente no, avremo un'altra partita e la giocheremo esattamente come abbiamo fatto ora, daremo tutto e cercheremo di andare avanti. Grazie. 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 Grazie.